Cran CTM contro RVM Italia settima giornata Champions Cup amatori Elite Serie B in una settimana che vede il super scontro tra i Dogs e Atletico Real, gli Orange vogliono provare a ridurre le distanze sperando ovviamente in un risultato positivo subito formazione di casa con Floris e la risposta a dir poco spettacolare da parte di Pinna l'RVM Italia bussa da quest'altra parte ed è un toc toc violento, un toc toc sordo, quello di cardia per il vantaggio della formazione ospite risposta degli Orange però altrettanto venente Podda rimane a guardare Canu che ringrazia alla futura Sales e di nuovo parità l'RVM Italia sembra particolarmente in palla, qui guadagna un calcio d'angolo ne nasce così l'Euro goal di Matteo Tatti 2-1 per il Cran CTM l'RVM Italia spaccome però abbiamo già detto è abbastanza in palla e così raggiunge di nuovo il risultato di parità con Ivan Podda molto rivedibile però il CTM soprattutto sulla sua faccia destra prima dello scadere del primo tempo Francesco Melis direttamente sul calcio di rigore per il 3-2 del CTM poi c'è questa conclusione da parte di Serra che impegna Pinna allo scadere Saidu regala questo pezzo di bravura che certamente avrebbe meritato maggior fortuna e il palo a dire no alla formazione ospite e così si va a riposo con questo punteggio Cran CTM 3-RVM Italia Spa 2 con le immagini realizzate al campo della futura Sales Distrargius dal nostro Stefano andiamo a vedere quello che succede nel corso della ripresa l'immediato pareggio della formazione ospite meritatissimo realizzato da Cardia poi di nuovo il CTM che ci prova con la conclusione da parte di Serra murata dalla barriera nella circostanza non è serata per l'RVM qui Cardia vicinissimo al gol del 4-3 prima il palo poi fa gli dicono di no qui Canu anche lui vicino al gol Melis plavorosamente salva sulla linea il difensore si rifarà su calcio di rigore il gol del 4-3 il gol che deciderà l'incontro nei minuti finali ultima palla a gol del match per Saidu che sprecherà in questo modo finisce così alla futura Sales Distrargius Kral CTM batte il RVM 4-3